E devo dire che Marcio sta facendo sta minchiata senza parlare né con mia né con tia né tantomeno con Ignazio, però succede e quindi c'è passare, esperienze che si fanno nella vita, qua c'è scritto così marita sta contendo i giorni, qua ammazza un porco sta contendo un anno, però siccome Marcio bello porco è capace di cagarla. Te la vuoi dire qualche cosa? No già penso che abbiamo detto tutto con questa frase. Niente, nulla da dire. C'è... come facevano la ricetta dove spostare gli artigiani al lavoro niente dici? non è il momento c'è troppa attenzione? i ragazzi non si capisce il ragazzo va di reali altri va di reali altri ma non vorrei parlare, sono tutti omertosi Viva il nostro nuovo lavoro si, 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 si! ma a una broca non c'è poco non c'è la broca rMcAnna ma c'è una broca che c'è? non c'è una broca riusco non c'è una broca riuscire e l'altro compagni io ho fatto il comodo solo un piccolo non c'è una broccia però è stata un amici ma ci sono i miei ragazzi Oh, ma che stai passando! Sì. Pippo quando ti dico io, stai, sali, vado a ricarca Arrivederci E beh, dovremmo arrivare Eh, dovremmo arrivare Dici da fare la ripresa Fammi fare una panoramica No, allora stiamo a fare la panoramica al momento Ancora siamo a un terzo dell'altezza, non ci siamo No, a me è pieno, forse mi si inizia a fare impressione No, tu basta che stai a chiume, non ti preoccupare Ma lei era vero, da lì avanti Ma io all'ottavo piano Sì, però le scale, i parapetti, che siamo sospesi di verso lì Grazie, bu Mi ha sentito tremendo, vi ho vendicato subito Stamente noi ci diciamo A che cosa? Bella chiesa, va A fino a quando fa? Diciotto Ancora? Puoi provare? No Le prezze dei diciotto metri A Roma o da? No, mi scala Sono a fare la panoramica Se tu mi dici come vuoi Anche perché da questa altezza già non ha senso Per tirare il riso Perché è alto? Da questa è l'altezza buona Ma io mi sono cagato addosso Io gli devo cambiare la batteria perché stiamo rischiando di restare a casa Vabbè, se vediamo quando rimaniamo qua sopra non è un problema Ma non cascavamo il problema Provi Quindi io rischio che siamo io e tu Dopo quello che stiamo per fare Perché? Magari la lana loda Almeno non Senza pietà Ma io non ne dico Dovevi dire qualche cosa ora? No, no, ancora no Voglio vedere cosa dicono i genitori Di noi voracci Loro Anche io mi stai diventendo No Quindi cosa c'è qua dentro? Eh Quella verde rossa e che sono? Eh, la bandiera italiana Questa è E c'è un attimo quella di Del passeggiamento dell'Unità d'Italia Si, si Patriottismo Sì Vediamoci come facciamo Va bene signor Ponte Grazie La saluta Simone Qual è il segnale? Fumere Io Fumere Stanno buscando malato Se sono i miei Se sono i miei Se sono i miei Sì Tic Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.